ragazzi buongiorno questo è il garmin varia e questo è il radar di trek dunque vi faccio vedere un attimo che cosa mi ha mandato trek da provare in pratica questo è il loro radar che fa tra virgolette concorrenza anzi il diretto avversario il diretto concorrente del garmin varia hanno preso la luce del bon trager che è una delle luci migliori al mondo in assoluto e l'hanno resa un po più grossa un bel po più grossa e hanno montato appunto il radar come caratteristiche di percezione degli ostacoli è praticamente identico a radar di garmin come peso adesso andiamo a vedere come durata siamo sulle sette ore di luce e di verifica dei mezzi che arrivano insieme al radar mi hanno inviato da provare questa che è una stazione di ricarica in pratica qua dentro voi potete mettere il ciclo computer una luce appunto un sistema radar e via dicendo quello che volete questa stazione è collegata con qua dietro qua dietro c'è una presa per collegarla alla rete alla rete elettrica qua si accendono i vari led dei vari spinotti attaccati ci sono appunto attacchi presa usb c usb quella vecchia piccolina insomma ci sono vari vari attacchi e questa è una stazione di ricarica interessante ma il focus appunto del video di oggi è il radar ok andiamola a montare sulla bici come sapete io monto il radar di garmin al contrario quindi in questo caso questo rimarrebbe così oppure così andiamo un po a vedere come come rimane tanto smontiamo questo garmin varia con tutte le sue staffe 101 grammi con tutto invece quello di track 100 grammi quindi come peso siamo praticamente sulle sugli stessi pesi questo è l'aspetto estetico appunto una volta montato questo dispositivo è compatibile con whoop garmin con tutti i ciclo computer qui ci dice che appunto il prodotto non è di garmin ok come vedete in alto a destra appare il simbolo del radar normale come succede quando abbiamo il varia inserito ok come vedete abbiamo modificato sul computerino e chiaramente è andato a modificarmela anche direttamente sul dispositivo alla fine funziona esattamente come il varia proprio al 100 per cento lo stesso modo lo provo un attimo vi faccio sapere ora dal punto di vista estetico sta a voi perché ognuno può avere il suo punto di vista questo è laterale si è un po più stretto ma è un po più largo e quindi qui chiaramente sta a voi capire qual è quello più giusto per la vostra bici è quello che vi piace di più sicuramente la luce di partenza che un bon tragger è una delle più potenti mai costruite super visibilità andiamo da provare oggi ho utilizzato per tutto il giro il radar di trek e funziona esattamente sul display esattamente come quello di garmin quando lo colleghi l'unica cosa garmin ti dice non è un accessorio originale garmin e non possiamo assicurare la perfetta perfetto funzionamento qualcosa del genere ma al di là di quello funziona esattamente come il varia e anche l'app aggiuntiva che ti fa vedere a quanti chilometri ti superano anche quella funziona esattamente come avere il varia dal punto di vista visivo sul garmin ragazzi da questa cornice incredibile vi saluto e spero che il video sul radar di trek e la stazione di ricarica vi possa tornare utile ciao alla prossima